Ho già respirato l'aria di Sanremo, ero più piccolo, l'altra volta ero tra i giovani, questa volta ho l'onore e la fortuna di essere stato scelto da Claudio per entrare nei big, quindi sono molto onorato in verità. La tensione è reale perché il palco di Sanremo è un palco molto importante che hanno calcato tantissimi artisti importantissimi, quindi sarà sicuramente prima di tutto un orgoglio, è un'opportunità grandissima per far arrivare il mio messaggio a tante persone. E poi sicuramente la paura esiste, però la paura secondo me è un fattore che va preso in maniera positiva perché è anche ciò che secondo me alimenta la voglia, quindi non vedo l'ora. Sì, ci sono tanti artisti che conoscevo, artisti anche che ammiro molto, e questo sarà una bellissima cosa, anche perché la musica non va vista come una competizione. Vi di un'intervista di D'Andrea che raccontava proprio di questo, raccontava come la musica non deve essere una gara, non deve essere una gara di ugola, ma bisogna esporre semplicemente le proprie emozioni. Penso che ogni artista esporrà le proprie e io farò in modo che arrivino le mie e spererò che arrivino le persone. La canzone è una canzone che ho scritto, è nata dall'incontro con una persona, una persona speciale, una persona con il cuore di latta. Questo dualismo mi ha portato un po' a raccontare come un cuore di latta, questa ragazza con il pacemaker, avesse anche una storia molto particolare che ho colto dai suoi occhi, una storia molto struggente che ho voluto raccontare ed è anche la storia di molte altre donne, quindi è un messaggio importante che cercherò di dare. Sanremo è un po' un'istituzione per l'Italia, mi ricordo mia nonna che ci trema molto a Sanremo, infatti spesso, anzi succederà sicuramente che quando salire su quel palco penserò a lei e spero che sarò orgogliosa. Un saluto ai lettori di sorrisi.com, un bacio, ciao!